No, no, non è paura. Io non ho paura. Mi sento commosso pensando a voi a quanto lascio, ma so dimostrarmi forte dinanzi ai miei soldati, calmo e sorridente. Del resto anche essi hanno un morale elevatissimo. Quando riceverete questo scritto, fattovi recapitare da un'anima buona, non piangete. Siate forti, come avrò saputo farlo io. Un figlio morto in guerra non è mai morto. Il mio nome resti scolpito nell'animo dei miei fratelli. Il mio abito militare, la mia fidata pistola, se vi verrà recapitata, gelosamente conservati, stiano a testimonianza della mia fine gloriosa. E se preventura mi sarò guadagnato la medaglia, resti quella a Giuseppe. Genitori, parlate, parlate fra qualche anno quando saranno in grado di capirvi ai miei fratellini di me, morto a vent'anni per la patria. Parlate loro di me, sforzatevi di risvegliare in loro il ricordo di me, che è doloroso il pensiero di venire dimenticato da essi. Fra dieci, vent'anni, forse non sapranno più di avermi avuto fratello. A voi mi rivolgo. Perdono, perdono, vi chiedo se vi ho fatto soffrire, se vi ho dato dispiaceri. Credetelo, non fu per malizia. La mia inesperta giovinezza vi ha fatto sopportare degli affanni. Vi prego di volermi perdonare. Spoglio di questa vita terrena andrò a godere di quel bene che credo di essermi meritato. A voi, babbo e mamma, un bacio. Un bacio solo che dica tutto il mio affetto. A Beppe, a Nina, un altro e un monito. Ricordatevi di vostro fratello. Sacra è la religione dei morti. Siate buoni. Il mio spirito sarà sempre con voi. A voi lascio ogni mia sostanza. È poca cosa. Voglio però che sia da voi gelosamente conservata. A mamma, a papà, lascio il mio affetto immenso. È il ricordo più stimabile che posso loro lasciare. Alla zia Eugenia, il crocifisso d'argento. al mio zio Giulio, la mia madonnina d'oro. La porterà, certamente. La mia divisa a Beppe, come le armi e le robe mie. Il portafoglio, lire cento, lo lascio all'attendente. Un bacio ardente d'affetto dal vostro affezionatissimo Adolfo. La seconda lettera, invece, è molto breve. È una lettera scritta da un ebreo triestino. Si trentino e triestino, è stato ricordato, erano italiani di lingua, di cuore, come Fioramante e Gottardi, ma venivano mandati a combattere in Serbia, contro i servi, o in Galifia, contro i russi. Ma duemila di loro disertarono e andarono a combattere con gli italiani contro gli austrieci, andando incontro a morte quasi certa. Se anche sopravvivevano gli assalti, non venivano fatti i prigionieri, venivano impiccati, come Cesare Battisti. E Antonio Bergamas Bergamas scrive alla mamma, Maria, perché va a morire. E dice, mamma, io avrei preferito vivere insieme a te, ma se proprio dovevo morire, non volevo farlo in Serbia o in Galifia, per una patria che non era la mia. Io volevo morire per l'Italia, col tuo nome sulle labbra, sulla nostra terra, davanti al nostro carso. Cadrà davvero sul carso Antonio Bergamas? E sua madre, Maria, sarà la donna incaricata, a fine della guerra, di scegliere il milito ignoto, che oggi riposa all'altare della patria a Roma. La portarono in un duomo, una chiesa come questa, in un duomo di Aquileia, davanti a undici bare, di undici soldati sconosciuti come suo figlio. Lei si tolse lo scialle nero e lo posò sulla seconda bara. A quel punto il cerimoniale le disse, prego signora, puoi uscire? Ma lei volle salutare anche gli altri ragazzi, come per chiedere scusa di non aver scelto uno di loro. E' arrivata davanti all'ultima barra cadda a terra, sopraffatta dall'emozione. Poi si riprese, visse ancora una vita lunga, fece in tempo a votare, quando finalmente le donne nel 46 poterono votare. Morì nel 53 e ora riposa nel cimitero di guerra di Aquileia accanto agli altri dieci militi ignoti. Ora, Andrea e Luca, che ringrazio, leggeranno questa lettera di Antonio Bergamas alla madre. Io voglio dirvi ancora un'ultima cosa. L'ultimo capitolo del libro è scritto invece da lettere, non di caduti, o di fanti che non ci sono più, ma lettere dei miei amici su Facebook. Io non credo molto ai social networks, preferisco guardare la gente negli occhi, però ho aperto questa pagina Facebook apposta per dire scrivetemi la storia del vostro nonno nella grande guerra. Ho ricevuto tantissime mail, in particolare da donne, perché questo legame con la patria, intesa proprio come terra dei padri, spesso sono le donne in particolare che lo sento. Tanti mi hanno raccontato storie bellissime che poi ho messo in fondo al libro. Altre storie erano più normali, ma tutti mi dicevano la stessa cosa. Per piacere parli di mio nonno, non perché fosse un eroe, ma perché era una brava persona, amava l'Italia, credeva nell'Italia, non si riconoscerebbe nell'Italia così come oggi è diventata. E questo mi ha molto segnato, perché mi ha fatto capire che in fondo noi siamo più legati all'Italia di quello che pensiamo. E secondo me questo rapporto forte che abbiamo con la nostra piccola patria, con i nostri paesi, con la lingua, il territorio, il dialetto, non è incompatibile con il legame che ci unisce alla patria comune. E questa è una grande forza di cui disponiamo per quest'altra guerra che la nostra generazione deve combattere, deve ancora vincere. Vi ringrazio. Domani partirò per chissà dove, quasi certo per andare alla morte. Quando tu riceverai questa mia, io non sarò più. Forse tu non comprenderai questo, non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di battaglia. Perdonami dell'immenso dolore che io ti reco e di quello che io reco al padre mio e a mia sorella, ma credilo, mi riesce le mille volte più dolce in morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro per la patria mia, naturale, che il morire laggiù nei campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una patria che non era la mia e che io odiavo. Addio, mia mamma amata, addio, mia sorella cara, addio padre mio, se muoio, muoio con i vostri nomi amatissimi sulle labbra davanti al nostro carso selvaggio. Bene, abbiamo fatto un lungo viaggio stasera, ovviamente il libro di Aldo è lì e mi pare che sia una memoria viva ed è la cosa più bella che un libro possa fare. Buonasera. Grazie.